Sotto la guida delle sette stelle è stato tramandato di generazione in generazione l'Okuto Shinkai. Un campo arcano e micidiale che mediante la concentrazione della propria energia nei colpi è in grado di distruggere il corpo dall'interno. È passato molto tempo, vero Kenshiro? Combattere contro tutti quegli uomini equivale ad una contanna a morte. Quanto tempo ancora dovremo vivere nel terrore? L'esercito che attacca! Non potrai mai sconfiggermi! Solo tu puoi battere il sacro imperatore. Tu, che successore della divina scuola di Okuto. Ad ucciderti sarai il pugno di un mondo sprofondato nel caos. Non puoi nulla contro il destino di imperatore che mi apportiene! Kenshiro! La tua vita avrà termine fra soltanto tre secondi. Sapevate che la parola anime è un'abbreviazione di animation? Cioè, traslitterazione giapponese della parola inglese animation? Nacque nel 1917 dagli artisti giapponesi Shimokawa Oten, Yunichi Kuchi e Seitaro Kitayama e il primo anime era una clip di due minuti di un samurai che prova la sua nuova spada. L'anime affronta tutti i generi, però quello sci-fi è il più popolare. Robo, metropoli, post-apocalittiche e motociclette sono dei must di questa arte. Qual è il vostro film anime preferito? Scrivetemelo nei commenti qui sotto e io vi aspetto al prossimo video. Ciao da Valeria!